Mercoledì 19 maggio si terrà nei locali del liceo Alfonso Gatto di Agropoli il secondo concerto in diretta streaming a cura degli studenti e delle studentesse del liceo musicale. Questo secondo appuntamento sarà dedicato alla musica da camera e al canto. Ancora una volta i giovani musicisti del liceo Alfonso Gatto offriranno a chiunque vorrà collegarsi un'ora di grande musica e nonostante l'assenza del pubblico riusciranno a comunicare le loro forti emozioni e percepiranno l'applauso virtuale degli ascoltatori. La diretta verrà trasmessa a partire dalle ore 18 sulla pagina facebook del liceo Alfonso Gatto.